E' stato l'arrivo provvidenziale dei carabinieri a far fallire il colpo da 17.000 euro. Quattro banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di Qualiano seminando il panico più totale. I pochi clienti presenti alle 14.40 si sono immediatamente dileguati in piazza Rosselli. Solo una persona terrorizzata ha allertato i carabinieri che per fortuna si trovavano a pochi passi. I due militari, appresa la notizia prima di agire, hanno allertato e rinforzi e cautamente si sono avvicinati all'ufficio posizionato proprio al centro della cittadina. I carabinieri hanno studiato tutto e pensato all'azione nei minimi particolari in una manciata di secondi. Attenti e vigili ad ogni movimento dei banditi che si trovavano all'interno delle poste hanno atteso il termine del ride con pazienza e lucidità. Quando i malviventi feroci e violenti sono usciti pieni di adrenalina e soprattutto di soldi li hanno bloccati senza se e senza ma. Un intervento repentino ed efficace. I ladri, sconvolti e scioccati, non hanno reagito. Mai si aspettavano di trovarsi di fronte alle forze dell'ordine e di dover cedere tutto il denaro appena trafugato. I carabinieri con Vemenza hanno intimato loro di gettare subito l'arma, una semia automatica con sei cartucce, di porsi faccia al suolo senza discutere. In tre hanno obbedito, mentre il quarto probabilmente il palo è riuscito a darsi alla fuga. Ma i carabinieri sono sulle sue tracce. Avrebbe loro e contate, i banditi originari tutti di Villariterno erano riusciti a racimolare ben 17 mila euro, denaro poi restituito all'ufficio postale. Dopo il riconoscimento i tre sono stati condotti in carcere. I banditi affronteranno il processo per direttissima domani mattina, essendo stati arrestati in flagranza di reato.